tagliabue gomme e midac intesa di qualità partners d'eccellenza quando due aziende che primeggiano nei rispettivi settori hanno modo di incontrarsi è naturale che finiscano per collaborare e questo è il caso di tagliabue gomme distributore nel settore pneumatici desideroso di ampliare la propria offerta di prodotti e servizi e midac produttore italiano di batterie di avviamento ed industriale un insieme di competenze unico nel suo genere capace di raggiungere in modo efficiente una clientela diversificata in cerca del miglior rapporto costo beneficio da oltre 25 anni sul mercato midac è sinonimo di prodotti di qualità nonostante il difficile periodo economico negli ultimi 10 anni midac è riuscita a raddoppiare fatturato e personale con due sedi produttive a soave e cremona e svariati filiali in italia e nel mondo nel 2013 ha investito 8 milioni di euro per evolvere la tecnologia di costruzione delle piastre elemento base di ogni batteria per auto via grazie ai risultati ottenuti con la tecnologia di stampaggio punching le batterie midac sono in in grado di offrire le migliori performance disponibili sul mercato internazionale in termini di affidabilità e prestazioni elettriche midac è anche fornitore di primo equipaggiamento di fiat chrysler automobiles e nel mercato ricambi e partner di nomi prestigiosi quali magneti marelli auto distribution in germania olanda e marocco del gruppo temo in francia belgio e olanda e di altri grandi operatori in italia e francia un lungo curriculum di importanti collaborazioni nazionali ed internazionali che si arricchisce ulteriormente grazie al progetto con taglia v e gol per saperne di più sui prodotti midac o cercare la batteria per il tuo veicolo visita il sito www.midacbatteries.com midac power passion